Il censimento generale dell'industria, delle istituzioni non profit, delle istituzioni pubbliche è l'ultimo atto di questa stagione censuaria. Dopo il censimento dell'agricoltura, dopo il censimento della popolazione e delle abitazioni, ci rivolgiamo ora al mondo produttivo, dell'industria, dei servizi pubblici, ma anche del non profit. È una grande operazione attraverso la quale capiremo meglio in dettaglio, a livello territoriale, settoriale, di diverse tipologie, come funziona l'economia italiana, come funziona il settore dei servizi, come funziona quello dell'industria, come le imprese si relazionano tra di loro. Infatti uno dei temi importanti del censimento dell'industria sarà proprio la relazione tra imprese, l'internazionalizzazione, come le imprese italiane si rapportano alle imprese internazionali. Una grande operazione, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, i risultati come è già accaduto nei precedenti censimenti saranno diffusi molto tempestivamente. In un momento in cui l'Italia deve ridisegnare il suo futuro, scattare questa fotografia del sistema produttivo italiano è fondamentale, non solo per la politica ma soprattutto per le imprese stesse. In questa stagione censuaria l'Istat ha collaborato con tutte le istituzioni che hanno un radicamento forte sul territorio. Per il censimento agricolo abbiamo collaborato con le regioni, per il censimento della popolazione con le prefetture, con i comuni, ora per il censimento dell'industria, dei servizi, del non profit e delle istituzioni pubbliche con la rete delle camere di commercio, con l'Union Camera. Certamente la rete delle camere di commercio è molto vicina al mondo delle imprese sul territorio ed è per questo che ci siamo rivolti a loro in maniera da raccogliere i questionari che eventualmente le imprese non compileranno via internet o non rimanderanno per via cartacea per riuscire a capire se la non risposta ad esempio deriva dalla chiusura dell'impresa o se invece è solo un ritardo. Le camere di commercio da questo punto di vista sono insostituibili, gestiscono l'archivio delle imprese e quindi hanno in tempo reale il polso della situazione. Nella conduzione dei censimenti l'Istat è sempre stato molto attento alla condizione effettiva dei diversi territori. Ad esempio nel censimento della popolazione insieme al comune dell'Aquila e con la regione Abruzzo abbiamo svolto un censimento molto rispettoso delle persone che a causa del terremoto si erano dovute spostare ad esempio. Per questo censimento dell'industria dei servizi del non profit saremo particolarmente attenti alle realtà che sono collocate nei territori colpiti dal sisma di qualche mese fa. Abbiamo messo in campo dei servizi informativi speciali, delle assistenze particolari verso le imprese e le altre istituzioni che dovranno rispondere al questionario. Ci rendiamo conto che è un momento difficile ma d'altra parte la conoscenza della realtà dopo il terremoto è un elemento fondamentale per la politica ma anche per il rilancio dei settori produttivi colpiti da questo sisma. Grazie a tutti.